Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Colombiano. Perché colombiano? Con gli indiani. Quello che spaccano indiani incredibili! Qual è il motivo? Africa. Qual è il motivo? Sud America. Mamma mia, perché qual è il motivo? Che ci sono persone belle e persone brutte a questo mondo. È uguale sono cinese, africane. Guarda, l'amore non si tratta della... va oltre la... da qual paese sei. Guardate il video fino alla fine, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Yeah! Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Diciamo una nazionalità che ci piace di più, che è una domanda più appropriata. Boh, credo che non mi fa una grande differenza. Non è differenza? Sì, non c'ho preferenze tra... Beh, puoi dirlo. Ma con quale nazionalità ti piace di più? No, appunto, non penso di avere preferenze. Non saprei dire una in particolare. Quindi, ti va bene tutti? Sì. Buona, grande. Tu invece? Ok. Per me tutte e nessuno allo stesso tempo, nel senso che... Ti spiego. Che ci sono persone belle e persone brutte a questo mondo. È uguale sono cinesi, africani, che ne so, brasiliane, americane... Non lo so, però ci sono persone brutte e belle. A me piacciono le persone belle, punto. Boh, complimenti. Come ti chiami su Instagram? Sofia. Sofia. Tu invece, come ti chiami su Instagram? Lidia. Lidia. È stato un piacere. Buonasera. Grazie anche a te. Ciao, ciao. 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 Siamo con chi? Ilaria. Elena. E Aurora. Siete di Bolzano? Sì. Che ho fatto qua in giro oggi? Stiamo... No, non si può dire. Sì, puoi dire, no? Anche se lei vuoi venire. Vieni, ti faccio vedere la... C'è la bellissima festeggiata. Esatto. Complelano di chi? Matilda. 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 Tanti auguri. Grazie, caro. Buon complelano. Grazie mille. Siete pronti per la domanda? Sì, vai. Allora, la domanda... Com'è la domanda di oggi molto semplice. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Allora, per me è indifferente, onestamente. Sì? Perché l'importante è l'amore. Ok, e poi? E poi credo che... Non lo so, è indifferente. Semplicemente mi piacciono tutte le culture. Cioè, tutti, sì. Tutti? Tutti ti vuoi vedere? Sì, ma perché... Sì, è indifferente, tutti. Grande. Tu invece? Ma... Comunque se il ragazzo piace, piace indifferentemente dalla nazionalità, però... Spesso magari i ragazzi del Sud America, così... Mamma mia, perché qual è il motivo? Ma hanno più passione nei modi di fare, sono forse anche più belli esteticamente. Per letto o per cosa? No, no, proprio come apparenza, come... Come... Sì, come estetica, mi piacciono più. Buona, buona. Dai, vieni tu. Buona, ok. La ringrazio a voi. Grazie, grazie caro. Io, io, bella, bella, come stai? Piacere, nada. Buona, sei di Bolzano? Sì, sì. Tu come stai? Eh? Tu come stai? Bene, te? Come ti chiamo? Shaima. Quanti anni hai? 19. Tu, quanti anni hai? 19. Allora, sei pronti per la domanda? Sì, sì. Allora, buona, buona, tu? Sei pronta? Sì, sono prontissima, vai. Buona, la domanda di oggi è molto semplice. Partiamo con te. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Con gli indiani. Oh, quelli che spaccano indiani incredibili. Qual è il motivo? Eh, perché sono molto romantici. Mamma mia. E poi? Eh, brasiliani, tutta Latinoamerica, tutti. Mamma mia, quindi tu preferisci solo gli sudamericani, quelli un po' mulati così? Eh, certo. Buona, buona. Ma quale è il motivo che tu preferisci con due uomini mulati? Eh, ma perché sono più passionali, sono più romantici, sono più, non lo so, mi danno quel vibe da uomo proprio. Oh, quelli che spaccano molto, incredibili. Tu invece? Con gli arabi. Ma quale nazionalità? Marocchini. Oh, solo... Marocchini. Oh, io ho due marocchini, dopo ti faccio contattare loro. Ma perché tu preferisci fare l'amore con i marocchini? Perché sono più dotati. Dai, puoi spiegare un motivo, cara? Dai, vieni. No, ragazzo, perché... Non lo so, sono attratto a dei marocchini. Mi piacciono. E poi di marocchini? Mi piacciono. Eh? E poi di marocchini? Eh... Boh? Dai. Gli italiani? Gli italiani? Non ho mai provato, però ci sarebbe provare. Vuoi provare una italiana? Sì, certo, perché no? Buono. E poi di italiani? Basta. Basta, basta. Avete qualcosa da pubblicare il vostro profilo Instagram TikTok come volete? No. Vuoi pubblicare i tuoi nomi di Instagram TikTok come volete? Il tuo nome Instagram? Ah, sì. Come si chiami su Instagram? Shaima. Shaima. Shaima? Come si scrive? Shaima. C-H-A-I-M-A Fattino sotto A. Buona, seguite tutti i marocchini, perché lei preferisce amore solo con i marocchini. Anche gli italiani. Tu invece? Come ti chiami su Instagram? Io nado a Bari, 5687. Buona, seguite tutti, ragazzi. Grazie, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao. So you should enjoy yourself, yeah, yeah. You should enjoy yourself, also. Yo, yo, ciao Bella. Ciao. Ciao. Siamo con chi? Elisa e Sofia. Siete di Bolzano? No, di Merano. Che fai con la Bolzano oggi? Eh, un po' la talvera col sole, c'è bella giornata. Bella, bella c'è sta. Tu invece? Sei di Bolzano? Sono di Bolzano, sì. Che fai a talvera oggi? Bene, fai di sole con le mie amiche. Buona, siete pronti per la domanda? Sì. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Allora, per me la nazionalità non è importante. Basta che vado... Così che spacca. Cosa? Ho detto così che spacca, mi piace quello. Puoi spiegare di meglio? Eh, boh, dipende dalla persona, come è il carattere, così, se vado d'accordo. Se il vibe è bene comunque, allora non c'entra chi nazionalità è, ovviamente. Il cover? Ma quello neanche, non c'entra per niente. Basta sì. No. Tu invece? Io anche sono abbastanza d'accordo con la mia amica e... Non lo so, secondo me se c'è attrazione c'è attrazione e... Così, attrazione. Ti va bene con tutti? Se ho attrazione con quella persona mi riesco a capire. Sì. Sì. Ok, buono, la ringrazio. Grazie a te. Se avete qualcosa da migliorare fatecelo sapere nei commenti. Così che spacca, no? Io, io, ciao bella. Ciao. Siamo con chi? Martina. Sei di Balsamo? Sì. Quanti anni hai? 23. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Africa. Qual è il motivo? Ho un debole per la pelle scura. Solo la pelle scura? No, anche la fisionomia... Molto superficiale come cosa, perché è solo aspetto esteriore, ogni persona ha una personalità diversa, quindi non posso conoscere tutti quanti, però così mi hai chiesto questa domanda, con quale nazionalità, anche questa molto superficiale, perché mi piacerebbe fare l'amore con qualcuno che mi piace, no? Sì. Anche rispetto a quello che ho detto prima, guardo prima la personalità, chiaramente. Se tu mi chiedi la cosa che mi hai chiesto, la domanda che mi hai appena fatto, rispondo così. Buona, la ringrazio. A te. Grazie mille. So you should enjoy yourself, yeah, yeah, you should enjoy yourself. Yo, yo, ciao Anna. Ciao. Come stai? Guarda, con questa bella giornata sto molto bene, grazie. Buona, che fai con la talvera oggi? Che cosa faccio la talvera? Allora, io ho appena preso un gelato. Oh, un gelato incredibile, mamma mia. Bellissimo gelato e adesso che siamo nella festa di Pasqua, quindi sono a fare una passeggiata. Intanto buona Pasqua a tutti. Sì, buona Pasqua a voi tutti, ciao. Sei pronto per la domanda? Speriamo, vediamo, ascoltiamo la domanda. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore, Anna? Boh, prima di tutto non mi sono mai programmata a capire con chi faccio, ma se parliamo di amore, l'amore che io conosco inizia sempre da un rispetto, no? L'amore verso il prossimo, quindi non pensiamo sempre all'amore come un atto sessuale, ma va oltre. E quindi la cosa più importante è che Dio saprà la persona con cui potrei fare, quindi non ho pensato ancora. Quindi per te va bene per tutti, basta che sia una buona persona. Sì, guarda, l'amore non si tratta di... va oltre la... da qual paese sei, va oltre l'educazione, va oltre i soldi, va oltre qualsiasi cosa. Finché ami la persona è tutto, quindi... Se io dovrei amare una persona non guarderai mai il colore della pelle oppure la nazionalità, quindi amore non ha nazionalità. Non è anche il colore della pelle. Neanche. Buona, grazie Emiliano. Anche a voi, ciao. Io, io, ciao bella. Ciao. 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 Mi chiamo Roniki. Come? Mi chiamo Roniki, come ti chiamo? Marcella. Jenny. Jenny. Sei pronti per la domanda? Eh sì. Sei di Bolsano? Merano. Che fai con la Bolsano oggi? Faccio un giro con le mie amiche. Buona, voi siete di Bolsano? No, di Merano. A Piano. Ah, buona. Che fai qua in giro? La stessa cosa di lei, in giro. Buona. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Con quale nazionalità ti piacerebbe fare l'amore? Con un boricua. Boricua? Boricua, Puerto Rico. Puerto Rico? Mamma mia, quindi tu non vuoi essere povero? Eh? Non ti piace essere povero? Eh sì, è normale. E capisci che è... Dai, puoi dire. E piensa che è un ricco? Non è un ricco, Puerto Rico. Ah, Puerto Rico, un paese? Ah, scusami, non sapevo. Ma perché? Qual è il motivo? Non lo so, mi piace. Mi piace, no? Non lo so. Mi tirano di più? Molto. Eh, con tanti, non lo so. Dai, puoi dire, no? Non lo so, sono figo. Buono, tu invece? Con un venezuelano. Perché? Qual è il motivo? Eh, perché sono fighi, sono belli. Quindi io non sono figo? O gli altri, come tipo italiani, tedeschi, loro non sono fighi? Non mi piacciono. Quindi ti piacciono solo quelli paesi? No, dipende dalla persona, non importa il paese. Dipende dalla persona. Puoi spiegare un po'? Eh, se mi piace, basta. Perché deve avere una nazionalità, perché se ti piacciono solo, un esempio, arriva qualcuno, se ti piace, ti piace, non è che deve essere colombiano, italiano, se ti piace, ti piace. In generale tutto va bene. In generale, sì. Buono, a te lei invece? Colombiano. Colombiano. Perché colombiano? Eh, perché sono un po' falso. Dai, qual è il motivo? Puoi spiegare un po'? Dobbiamo vedere colombiano. Eh, così. E poi dopo di colombiano? Cubano. Cubano, mamma mia. Qual è il motivo? Eh, perché sono caliente. Dai, così che si fa, con me. Grazie a voi. A te, anche buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.